Torino, tu hai fatto una promessa? Hai avuto la montagna, non è sufficiente? Ora la difendiamo. Sono venuto a rivendicare una cosa che è mia. Questa era l'ultima mossa di un grande piano. Un piano a lungo preparato. Quei pipistrelli sono allevati per un scopo. La guerra. Tutto ciò che ho fatto, l'ho fatto per loro. Tu hai iniziato. Mi perdonerai se finisco io. Hai solo una domanda a cui rispondere. Come finirà questo giorno?